Tu hai paura di innamorarti. Allora a tutti quelli e quelle a cui è stata mossa questa accusa do un paio di consigli per rispondere in maniera efficace. Primo consiglio più rapido, tipo uno vi incontra alla fermata dell'autobus, vi guarda e fa tu hai paura di innamorarti, non lo conoscete neanche, la risposta potrebbe essere ah non l'avevo riconosciuta dottor Freud e di mia madre non mi dice nulla. Il secondo modo invece un po' più elaborato consiste nello spiegare alle persone che l'innamoramento non si sceglie, cioè non è che tu ti svegli la mattina e dici ho proprio voglia di diventare un ebete che non capisce più nulla, non ha più razionalità, non sa se ha fame, non ha fame, pensieri ricorrenti, non è una roba che scegli, è una roba che ti capita. E la cosa interessante che è una cosa contro la quale nessuno può far nulla. L'innamoramento è un bestione gigantesco con un grosso randello in mano che ti piglia alle spalle, perché ha gusti golosi, e comincia a dartene così tante e te le dà ancora prima che tu ti renda conto che stia succedendo qualcosa. Quindi l'innamoramento non si sceglie, l'amore sì. L'amore lo scegli e ha delle zone di luce e delle zone di ombra e richiede un impegno costante. Al contrario l'innamoramento non richiede nessun impegno, anche un macaco decerebrato è in grado di innamorarsi, non devi fare nulla. Quindi se qualcuno non si è innamorato di voi, non è perché lui o lei avevano paura, ma perché voi non siete riusciti a farli innamorare? È esattamente il contrario.